In onda, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova live su Rainbow City, oggi siamo qua Siamo su un'onda, si Stree, unisciti, dai Ah, mi avete invitato? Eh, tu ho già invitato due volte, ma comunque puoi entrare anche dal party Dai, dai che iniziamo con una bella classificata Ma bella, eh Ma l'hai stoppata la live? No Ti sei stoppato tu, semmai Ci stanno tutti? Sì, stanno tutti Tac Io non ho stoppato proprio un bel nulla Minchia Allora Dai che c'è Luca, eh sì dai Luca, dai, ti faccio il moderatore che almeno Tac Quattro spettatori, ciao a tutti eh Oh, subito chi fa il scritto ricambio, bravi raga, così mi voglio Oh, farai un sacco di views Solo perché c'è Luca Ci credo Bella raga Scritto Bella, bella Cinque spettatori così a cazzo, vai vai Perfetto Artificeri, ancora sta mappa Oh, porco due Ciao a tutti raga, lasciate il like alla live, dai che dobbiamo arrivare a 30 live per questa live Prendete Ibana raga Ibana Poverito Sì sì, Luca, lo hai già spelluto Alla prossima live però non puoi scrivere live nostri nomi per esempio Che? Allora, quei cornogli sotto stanno Sì sì Oh ragazzi, non rinforzano la botola Partiamo dalla botola Eh certo Fidati, raga Sì ma se vedi Frost nella zona è glicciato tipo sul mobile No, no, vuoi un attimo il drone Taccole non ha messo Frost non ha messo il tappo Ci credo, appena è spawnato si è glicciato lì sopra Ma porco due Oh, la botola raga Dove sta giù? Sono morto Eh, l'ho notato ma intendo dire dove sta Venga venite qua Eh, sta facendo sponchile dalla finestra Eh, dove c'è strego? A mostrego muore, guarda Occhio dietro E io come puoi spaccare la botola qua? Vai, usa qua Con le cariche? La carica di termite, va bene Anche se non è rinforzata All'esterno Beh, occhio vuoi dire che fosse tu? Sponchile, eccola Eh, figa, ho quel cogliene di merda Ma chi ha il bisogno di un nascatore? Io Ma ha distrutto il drone ma non ho visto dove è Perfetto Eh, hai visto? C'è quel cogliene che fa sponchile dalla finestra Ah, eccolo Tranzino Jaeger Aspetta Ciao Gianfra Cazzo, ma come? Ma no, mi ero messo il... Ti piace poi il sponchile, ah, merdina Sì, tanto ci sei rimasto solo tu, merdina Eh, vabbè, c'è la Bandit però, raga Poi non c'è nessuno di tutti di me Un po' di gente, Fra Un po' di gente Ma tu sei andato da solo con montagne Ma io per uccidere Jaeger però Sì, tu uccidi Jaeger con montagne Cambio operatore al massimo Oh, bravo Luca Giocasello adesso, bravo Allora Figa Qui sono pure nel meno Figa bordello Figa Armeria sotto, eh, raga Bravo, sei intelligente Chi gioca con te? C'è Assassinio e altre persone, dai Le solite E' occhio che qua, secondo me, qua sicuro plantano E cercano di plantare in A Porco Perfetto La botta non è fatta Ma chi è che ha barricato dall'altro lato? Io no, eh Io sì, eh Non può barricato, raga Che cazzo faccio a mettere in mira? Eh, lo metti qua Grazie Hanno sbagliato loro, secondo me Dovevamo andare nella bomba Nella nostra bomba Oh, raga, due devono stare qua sotto con me No, figa Guarda, mo' la priccia Ho notato Oh, porco Oh, ma non è possibile Vabbè, o raga 10 mi ha fottuto Madonna Ma c'è stanno già qua sulle scale C'è Le scale Sì Madonna C'è Ash lì, ecco, dove stai mirando tu giù Io ero lì Io ero lì che volevo andare nell'altra bomba Mi ha ammazzato Ma che cazzo Dai, raga Ah, allora ti piace C'è, un secondo Hanno iniziato il round C'è già Ash sulle scale Ma che cazzo Che cosa, Magic? Non ti sento? Alza il volume Il microfono Sta parlando Molto divertente Che cosa? Ma quella battuta Allora ti piace Oh, ma qua un punto Ma C'è che copriva il coso Raga, stiamo nella cazza Povero Luca Eh, mori Figa L'ho lanciato per un C4 Ok, che saranno ancora in bomba Nell'altra bomba Prima ho sentito spaccare Sì, poi ci sono anche i vetri C'è tu gli cingi Ecco, appunto Eh, vabbè E vabbè Guarda che ormai Quanta vita Prova a fare qualcosa Bravo Eh, vabbè Stavo solo con un cane, raga Eh, lo so Eh Cavolo, vabbè Sì, è un brato Valchile Bravo È forte Valchile Ma raga Perché un gioco abbandonano le parti? Ma che se ne prega Allora Stavolta io prendo un operatore Che ha le cariche irruzione Questo ce le ha le cariche irruzione? No Non le ha Scherzo Prendo io montagne, guarda Loro hanno vinto Giù, quindi Questi Io Sì, sono No Ma Ma che è successo? Presto la recluta Vabbè Vabbè Allora Mi sa che lo scudo Vabbè Tanto sta partita Guarda L'abbiamo già perso Ah, qua stanno Qua stanno Ma che vuol dire? Una volta sono arrivato 3 a 0 E poi abbiamo recuperato Sì, ma fra Ma Dopo Qua, fra Eh, addio C'è sto Jager Vabbè No, è bandit Ah, ma adesso qua sono proprio Ho lo scudo Eh, perfetto Guarda questi dove si sono messi? Raga, qua stanno spacciati secondo me Eh, da vedere Ma qua subito entriamo Lasciamo nella bomba B e plantiamo Vabbè Occhio alla trappola di Frost Che c'è alla porta principale Poi è facilissimo plantare il bomba B Cavolo Planti vicino alla finestra E sotto la finestra E poi controlli Guarda Vabbè Oppure lo scudo Perfetto Bra, vado con te Vado con te Chi è che ha il disinascatore? Io, Stragon Ok, dove? E dov'è Stragon? E che cazzo vai dall'altra parte? C'è, tu le fa tutto il giro Ma almeno spacco la trappola di Frost, no? Genio Ma il cazzo Ma che cazzo dici? C'è, tu le fa tutto il giro almeno spacco la trappola Deveni qua, oh Guarda che l'ho già spaccata io la trappola di Frost Chi ha la carica eruzione qua? Io Ah, c'era anche tu, niente Allora Fatemelo usare Tanto sono la rai tuta Vai, vai Antania Qualcuno droni? Mando un drone io Vai a vedere nella beat Allora Pulito C'è qualcuno No Non c'è nessuno Non c'è nessuno Allora qua c'è bridge Tengo Blocca la porta L'ho già bloccata Plantate raga Oh Plantate in B C'è che ha fatto il buco lì? C'è che al disinnescatore? Stregoli Muo Planta 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 lì Planta lì sotto Qui sotto Qui sotto Planta qui Planta lì Ma porca puttana Ma come facciamo a controllare? Fra Eh vabbè Tu rimani alla porta Eh sì Dai tranquillo Cazzo Ma sta passando da dietro qualcuno Sta ammazzando tutti da dietro Oh oh Dalla porta non c'è nessuno Vabbè Oh raga Un aghillo l'ho fatto E' un prosto No da qui Ti è stata la porta Dalla porta Vabbè Tanto abbiamo vinto Che genio Che è raga Sono un genio Dai Sì Un genio Che cosa genio Potevi Mettere il disinnescatore Fuori alla finestra E noi andavamo fuori Vabbè intanto L'abbiamo intessorando Se no l'avevamo già perso Dai Ma cosa Sì ma stava uno col disinnescatore Non è che visto che c'eri Tu abbia vinto No lo so Però intanto Oddio C'era Luca E c'era Luca raga E c'è anche Gianfra Che ci porta fortuna Nei commenti Ehm Jager Io mi bello Andiamo sotto Vabbè Jager va bene Anche sotto Raga Sotto Niente mira Raga Eccolo Prendo nel prossimo round Jager Anche se Ora ti volevo far vedere La potenza del Valkyrie Dato che l'hai comprata No Cioè dai Ecco di Sotto Fra la barricchitù La botola sopra O ci penso io Sì vado io Guarda sono già sulle scale Perfetto Bravo Luca Fai un buco di Tu fai la botola Qua evitiamoci dei rush e barricchitù Ma 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 No no La videocamera con la lanciata è caduta per terra Camera del cazzo Occhio che c'è Quella con Ash Che rusha Eh cazzo io sono sulle scale Via 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 Se mi rusha in faccia mi incazzo Qualcuno non ha la barricchita da mettere qua Io si Mettila qui Mettila qui Io controllo le scale Che rusha Ok Ok fatto Da qua da qua Porca puttana Ah ma era un nemico questo Ucciso Che Ash No era IQ Ah vedo che questi qua rushano bruttamente Ecco copro la botola io Cazzo 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 Hanno fatto il pochino in alto Glass del cazzo Io allora non guardo perché sicuro ci muove Vabbè tanto raga non serve se non elimina la tribana No non ci voglio vedere Non stare lì ti ammazzaglaz Ok Occio luca occio che c'è glass lì col fumogeno Stai giù Cosa no Vai entro Entro di là raga Controlla Frato controlla le telecamere al massimo Ok Pazzo io non l'ho messo manco gli yeager Aspetta No quello non è glass Eccolo glass Sta è lì Ma io mi sento qua sopra raga Ma di qua sopra posso non spaccare? No è rinforzata C'è Ash sulle scale Asha sulle scale Sulle scale principali Perfetto bravo luca Ma che smirata No Ci credo dai Bravo C'è una grandissima cazzata C'è Ash sulle scale Rattattattata morta No ma perché ho smirato io Se no la prendo Ah ok Li abbiamo vinto perché ha smirato lui Se no era persa Eh direi No la volevo fare io Però l'ho smirato L'ho smirato Se no l'ho fatta io Capitato Gio Basta che non prendi la recluta Per prendere anche IQ se vuoi Ah ok Non ci tengo L'avevi fatto questo Twitch è buona Eh bravo Twitch Sì va bene Twitch Sì va bene Tu al massimo fai supporto col drone Eh Mi spiace Luca ma è un gioco francese Giochi francesi fanno fatti col culo No fra col tostapane Ah ok Ancora qua stanno ragazzi Hai giunto il sotto Ancora non sono qui Perfetto Dai qua si lascia di nuovo Come prima Anche se questi qua Se li aspetteranno Vabbè noi lasciamo comunque Eh noi ci proviamo Tanto adesso abbiamo fuzzo Tu prima fuzzo Esatto io fuzzo subito Lascio il drone nella stanza così Magari uno drona Uno vede col mio drone E io vado subito di partire In B Andiamo sempre in B Noi al massimo dopo Stiamo ancora dopo Sponchilla No non qui Perché c'è un Ragazzi sponchilla Hashtag i giochi francesi fanno schifo Sì è un hashtag un po' lungo Però è un hashtag giusto Che rispondi Paguli Paguli Ma non ci sono niente Dove ho sparato Oh raga Se mi morito tutti là Anche no Paguli Oh Dottissero La finestra L'hanno rotta Mi sa che hanno visto fuz L'hanno rotta Sì Nella zona però There is anything Eh ma io non ho disinnesco Ce l'ho io Ce l'ho io Tu copri la porta come prima Occhio alla trappola di Vai 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 Ugo ma la live da quanto termina? Ma terminerà a mezzanotte Ciao Blitz Tutto bene Blitz? Dimmelo eh C'è qualcosa Eh Blitz scappa via Bravo Blitz vai via No è uno stronzo Blitz C'è anche Jaeger Ciao Jaeger Oh No Eh raga Mi hanno preso da due lati Referimento Non è referimento Lot of laughs Cazzo Eh Ah già non era Blitz Era Ah che è come cazzo si chiama Bandit Ah per poco Eh sì infatti bravo Io confondo i nomi degli operatori tedeschi Doc era No Bandit Eh sì Doc No ma scusa L'avevo messo in ferimento Eh l'avevo messo in ferimento Eh ma ci erano altri Allora 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 Vai come ha detto prima Io prendo Ecio Ma no cucina E che cosa? No ma vai Mira mira Oddio Ti sei salvato in calcio d'angolo In calcio d'angolo Stiamo giocando a calcio Ma anche noi qui Ma no Ma non pensavo che fossimo qui Qualca piscina Oh raga I miei mi hanno detto che devo andare a vedere la finale del 1100 C'è Bolt Ma anche no Ma come anche no C'è Bolt Mi spiace ma rimango fermo per 3 minuti Tanti Dura 10 secondi la finale Cacca puttana Bravro Eccomi Raga Ragazzi Troppo niente dove l'hai messa? No Su ora sotto No Ora mettile alle porte Solo alle porte Alle filette Nella porta Via via Porca puttana Da ma come Si va bene ma questi Fanno è ciotto Fanno è ciotto Qua ancora Mannaggia ragazzi Siamo nella cacca Dai ma perché no Vabbè non ci vedo Dai lo colpito Si vabbè Mission failed. All time. Bene, bronzo 2, ma parco 2. Non riesco a salire. Ancora io. Non riesco a salire. Ancora io. Non riesco a salire. 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 Ma l'ha abbattuto, cazzo. È la prima volta che perde. Fra, aspetta un attimo ad avviare. Oh, vedo che la lei si è popolata nel mio momento di assenza. Oh, ma non hai avviato. Oh, ma non hai avviato. Fra, io sono serio. Se parliamo anche questa è libera. Bravo Luca, tu spam di iscriverti alla live e lasciare like. Almeno la gente lo fa. Si, 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 si. Si, 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 si. A cazzo duro Oh ma arriva anche a Stragon E mettete like Perfetto Questa live c'è da 20 minuti Siamo quasi a 100 commenti Ugo ho lasciato anch'io il like Eh ci mancherebbe C'è Se non lo lasciate Ma alla fine l'abbiamo persa Quale? Quella di prima Eh sì Ah peccato Figa l'assenale No Chi è che lascia il dislike No Recluta Sì ma sì Ma sì Ma sì Questo è anche 201 Ma infatti L'ha fatto perché è un pro Guarda Se lo fa Minimo full team Minimo full team Qualcola recluta Se fa full team Allora va bene Però no Però no Ma minimo full team Sì Ah ecco Perché no Che cazzo Oddio raga Non sapete cosa ho visto No non lo so No non lo so E' il drone di twitch Raga Hai visto un cazzo enorme Quello militare però La skin di twitch Quello militare Però del drone Il drone militare Il twitch Sì Te lo giuro Ecco lì c'è gente che shoppa nel mondo Io famiglio però non l'ho mai visto La recluta che può mettere solo una barricata Ecco Lui è morto Bravo Luca Luca se ne è andato e non è ritornato E la recluta non ha una barricata Ci credo che Quello nemico Ah no E' un camino Ops E' un camino Io erano in 5 Me ne sono fatto uno Va bene Potevi fartene 5 però eh Cioè Accidenti Luca E vabbè Almeno uno per uno Minimo Però la recluta deve fare Oh i denti Ah sono entrati gli entrati da garage Hanno sfondato garage Sì vengono qua Di qua Ugo copri il garage Passano da lì Eh ma Sì da qua dove sto mirando io E c'è già assassin Allora fai tutto tu vai Sì si faccia un minimo Purti Porca puttana E' entrata twitch E' twitch E' entrata i più Porco 2 Vabbè ilchio non è una minaccia Cioè Mettano c'è 4 cuore E' vabbè E' entrano tutti da qui Entrano tutti Oh guarda un po' le videocamera Porca puttana Ok Ma come tocca se tu sigla? E' entrata la trappola No assist Confermo il più Che c'è Eh bella reglutina però dai Sta fa più chi nel lui No aspetta Porca puttana è qui ho fatto tutto occhia prosta un po ma come ma no dai si va beh io ho sparato lecce con la nota aveva un culo di vita comunque beh almeno la recluta ha fatto minimo un assist e direi fai food che almeno che dice mi prendo la montagna ah non lo so io basta che non vai da solo no ma montagna qua non prendere montagna eh guarda l'ha già preso giù prendi qualcosa ok non so dove sto spawnando eh raga manco io io faccio sempre casuale fanno lo mio stesso spawn killing garage attenti ah e come fai a capire a saperlo io sto con la montagna luca ha detto di stare attenti che fanno spawn kill dal garage dal garage si e ma come come fanno a fare spawn kill dal garage boh non lo so ci sono passato non ho visto nessuno adesso in garage aspetta vado a vedere ancora si stanno andando adesso caveira sta andando e doc stanno salendo entrambi si eccolo doc e in garage si doc anche caveira caveira era salita ma allora se mai uso una bomba del fuzzo in garage non lo so si prova ma prima drona poi palla al massimo 100 commenti ma come palla a fare spawn non ho capito cioè spalla attraverso il muro provate a dronare spottatemi i nemici che sono in garage no vabbè no vabbè dalla finestra raga doc ma sempre a me mi sparano raga ma qua no non c'è nessuno in una cosa no 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 alle spalle dove sono morti io similate bene alle spalle dove sono morti io la e io non so dove sei morto e appunto ecco chi deve essere doc facci di cazzo usteria madonna si vaffanculo io pensavo stesse spottando magari c'era la trappola sono andato lì tranquillo ma no non pensavo a quella finestra non mi potevi dire che era la finestra che avevo dietro eh porca puttana da dove eh eh luca eh ma luca non parla manda un messaggio di da dove luca veloce eh ho capito da dove porco due stronzo di merda lesbico garage ormai l'ha ucciso comunque sei stato bravo grazie e l'altro e vabbè però figa abbiamo monta l'ha ucciso bella rega lega non lo vede lega non l'ha vista a lei dico l'ultima vista fra gli ho fatto proprio lasciato dai la sportellata dai dai la eh ma appena guarda che mentre si sente il rumore quando toglie lo scudo bravo va alla porta e l'ha inculato cosa da dietro guarda lì non è servito un cazzo qua a montare è andato da solo e non ha fatto niente per tutto il tempo alla vita è andato da solo la finestra no che cavera io non lo so solo non me lo riesco non me lo riesco bo 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 allora prendo lui prendo lui davvero no 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 potrebbe essere l'opzione 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 abbiamo il ballo valutiamo i nostri spettatori dai lasciate like alla live iscrivetevi e poi potete continuare con i vostri bellissimi iscritto ricambi variegate anche qua eh l'ho già usato non so se metto no ne metto una seconda wow tutti vabbè qua cazzo chi è che è il pulse io vieni qui vieni qui in questa stanza vieni qua e spotta col pulse attraverso questa parete appena li vedi gli spari attraverso il muro ma no la rinportata cazzo cazzo però coprimi prosto e direi che io devo metterle tra oh la finestra qui la finestra del della zona ma come fanno a farmi ogni volta ma poi ero dietro il materasso noi abbiamo l'uomo cazzo ma cosa ma se ero più a destra vabbè vabbè vai gli più vicino al muro eh non li vedi per cosa del puzzle è troppo guarda guarda sono tutti là sono tutti sopra conteso mentre la finestra grande eh vabbè dai ma più c'era la cosa vaffanculo dai sinistra no cazzo e che si baglia eh il problema è che qua adesso queste sanno dov'è ma ma io gli ha sparato anche tanto facci sì ma anch'io prima il twitch gli ho sparato un caricatore ah gli ha dato in no ma gli ha dato in ferimento perché twitch ha sparato la gamba del del termite ciao marno marico lascia like iscriviti al canale se ti piace dai un live dobbiamo arrivare a 20 minimo non lo so che piglio questi giù sono già andati hanno vinto o perso giù vinto in garage in garage cazzo raga e la prima volta che usasce bravo lo usano in classificata ma i test fagli meno liberi oh in classificata è più bello oh non ho mai usato un operatore e lo va a usare a me sembra più che normale almeno c'ha i mirini sì 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 ce li ho tutti oh bravo dove stanno su sopra eravamo noi sì il legno sulla torta sopra secondo me questo è il pulso c'è il pulso sicuro quindi che ha fuso stia attento stai attento ok tra la tramite mi ha fatto il fuga su che vorrei in due cazzo eh no dall'altra stanza eh lo so ma avranno barricato credo almeno normalmente la gente puttana oh ma che cazzo lago 69 di connessione sta attento succate il cazzo mi hanno fatto fuzzare sì vabbè è buon guadissimo eh ma perché hanno diega e io fuzzo qua teste di cazzo ha test di cazzo sai cosa spacco anche dalla zona oh porco due ah mi è andato male cazzo eh Ugo mira un per cento di vita allora Ugo mira sta ok l'hanno ammazzato good job sta con il letto il bello è che stavo sparando anche in montagna no raga il bello è che sull'arma di Ash non c'avevo il mirino non so come mai ve l'ho ferito mira un po' sempre ci aveva l'avevo detto cioè ma su quel mirino non ce l'ho infatti non lo devo comprare c'hai millo c'hai millo si si ce li ho tutti il bello è quello che mi ha fottuto e me l'avevo convinto e l'avevo comprato c'hai trollato eh no non si trolla la gente in questa maniera eh io ho preso tocco e l'ho preso io ho preso tocco e da tanto che non lo uso dai sono scarse vinciamola eh speriamo no 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 togli 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 no li non li non li non li Magari, allora Comunque una domanda Perché hai preso castle? Uno alla porta della zona Uno alla porta della zona serve Magari Affanculo Però solo alla porta della zona Oh puoi barricare tutta sta parete Eh io non ce l'ho Non ho niente Eh minchia nessuno ha barricato È tutta vuota È tutta la paretona Quella lunga Eh strega non stanno già a sparare Jäger stai fermo Bravo Jäger La puntura non fa mai male Ma dove? Alle finestre dove vuoi cazzo Guarda che ho fatto lo scudo Ti piace il mio scudo? Ah beh dai Oh io mi metto qua Vediamo se non mi prendono Simone e barbesino Oh lasciate like alla live È inferimento È inferimento Termite Lì Ah scusa Giorgio Mi tra cura Cazzo Ti devo dare la cura Oh porco Sono morto Merda Ma dai ma dai ma lo ferire No dai non c'è parola raga Ascelo ferire Oh Ah è ucciso Jei sto Ascelo ferire Sudolta Se l'avete ammazzata Ascelo ferire ieri c'è ormai hanno bucato dappertutto dove questa cazzo nero lì sarebbe un due contro due però sarebbe un due contro uno perché questi lasciano nella zona e cavirà brava ma no ma dai cazzo madonna madonna amico mio come cazzo vabbè ma figo ma si può guarda che coglioni minchia davanti può giocare così cioè una camera la poteva ammazzare tranquillamente mi ha fatto ammazzare caveira ma luca dice che caveira l'ha fatta ammazzare qualcosa c'è qualcosa madonna mi fai spaventare quando fai così prendi l'allù non prendermi class però che palle e palle giovanni poi però quello la inutile prende un taglio che si andrà bravo hai imparato la lezione non stanno ora l'ha detto 18 volte cazzo sono di sopra sono di sopra sono di sopra dove stanno io non trovo le scale ah ah io le conosco molto bene le ma la faccio fra io c'è anche pulse addirittura anche prima mi fanno sconchili la mazza la mamma prima non c'era dove cazzo è che aveva ragà voglio che gioccolino a casa vai ragà potete spaccare termite ma come non è ah doc li ho sparato in testa oh doc è lì alla finestra eh aspettate un attimo oh ma come cazzo mi hanno sparato raga vabbè ah non so io voglio ho un minuto mi leggo dalla finestra ah ecco di là oh oh beh io mi sposto assist era doc vero eh li ho sparato in testa non moriva dove cazzo sono le scale in sto posto di merda oh io non so dove sono le scale mamma mia bucci raga attraverso il muro l'ho sparato lo hai sparato? si si come no bu buonanotte roberto la ma vaffanculo lo hai ops chebrav cosa hai fatto a uccidermi? volevo rompere la fl guarda io ero andato lì ora rompo quello meno male che l'ho ucciso meno male che l'ho ucciso prima che tu uccidessi lo dico to di stricola di S paton ma il bello è che l'ultima cosa non è che si vede la mia kill la mia su di te oddio guarda che bello stricola di S 10 punti meno 100 oh vabbè ah non lo so io ti immagini se non l'avevi ancora ucciso lì uccidevo te montagna moriva poi se quello poi quello magari uccideva chi altro faceva la contesa in montagna vabbè in teoria dove poi lo ammazzavi tu in teoria in teoria dato l'headshot che ho fatto da te riuscivo a uccidere anche lui eccolo qua c'è il doc che fa sponchi il doc che fa oggi che prima ma per il doc è di solito uno si chiude ma è la vera ma ragazza vera fa sponchita la garage c'è novità che c'è io ti ho avvertito poi porca pittana porca pittana porca miniatta porca miniatta dove cazzo mi sto è sempre la solita finestra oh nasconditi ci sono qua io stai tranquillo oh ma sempre oh doc raga doc il dottore pellegrino oh gli hanno la prima no andiamo andiamogli di cattiveria ma ammazziamolo brutalmente allora io mo faccio il giro oddio oddio ho ucciso il doc così oddio ha ucciso il doc così col fuoco amico di amico frizzi oddio il capitano non è da sottovalutare l'ho bruciato vivo quello ah ah suca dai andiamo di cattiveria siamo 5 contro 3 ma io non so dove è la zona è sotto giù in arsenale ah in arsenale ah ok ora no io dico chi c'aveva montagna raga ma che ne so ma quello è tutto coglione quello cioè raga stavo venendo non è che montagna mi copre c'è la trappola c'è la trappola giù c'è la trappola di cosa puttana troia io dico aspetta c'è la trappola giù cari sono morto anch'io puttana troia eh che vicino a me muovi muovi il culo montagna si vabbè l'ho perso ma che cazzo io ho detto giù aspetta c'è la trappola ma io pensavo la trappola di frost tu hai la trappola la trappola la trappola io allora vabbè allora la spacco mentre corro c'è rimasto male sono sotto io ho detto che sono sotto sono sotto puttana troia aspetta c'è la trappola boom esplosi tutte e due oddio raga Luca nel fatto puttana nella rasciare you can say can you say ok Luca ha la trappola per la mia fine sono morto anch'io che consapevolmente la volevo distruggere c'è la trappola di capga madonna eh vabbè ma raga se montagna mi avesse coprito prima raga salva stat lasciate like anche a questa live dobbiamo arrivare a 20 non so se lo avevi capito tu cioè dobbiamo arrivare a 20 like qui non lo sa giocare chi in montagne non so neanche come è riuscito a far 3 kg anche sai cosa prendo rock se non facevo il colino anche non sai cosa prendo doc qualcuno prenda cap se non facevi la doppia magari vincevamo credo che probabilmente o no o no mi sa che si eravamo 5 contro 3 poi noi lasciavamo da lì ce la facevamo Luca lasciava dall'altro lato e invece c'era il cap cantandanda andanda andanda che era pucca vado a baricarla bato la sopra Ma se io piazzo lo scudo tipo qui Ah non c'è qua eh Niente Ho l'ho usato adesso ma Capcan indossa le scarpe virginate Vabbè raga fanculo Fanculo cosa? Chi è Capcan? Eh vabbè quel co***o Beh vabbè le trappole non sono difficili la piazza Ci ho capito ma se uno la metteva dietro lo scudo non ne ha messo nessuno Oh cazzo 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 Oh cazzo Raga Oh allora Entrano tutti da lì eh Ma che cazzo fai Raga Assist scansione Vengono da garage Sono entrati da lì Sì da garage Ce n'è uno appena sotto le scalette Chi è che ha spaccato Oh da qua da qua da qua Da lì sicuro Sì ha spaccato lì Prima non c'era Cazzo Avevo messo la barricata C'hanno una bella sorpresa Sì credo che la vedano C4 Ah l'hanno trovato adesso scusa Stanno dronando Twitch Dove hanno rotto scusa Eh ma porco due Ma non c'era Luca lì E Luca è morto Eh porca puttana Ma che cazzo ne sapevo io Tutti la E credo una raga Grande E lì lì Ah no E' con te Ma che cazzo E questo è ritardato Raga Beh però Infortunatamente Era nascosto Nella Grande Meno male Questo qua si era nascosto Nell'angolino E guarda Era nascosto Nell'angoletto Minchia Io sto Guardando da tutt'altra parte Figa Meno male che c'era quello Minchia 3 assist Sta raga Eh ma gli ho 7 kg tu 12 Eh 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 E guardate le mie migliori partite Dai raga sta partita Volevo concludere così O lui Ma siamo Eh io non lo so che piglia Non lo so Io prendo capitato Ipana Ipana va bene Ipana 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 C'era raga Puri sarebbe buoni Anche se gioca Non so perché cazzo L'ho preso Però Scialla No è scialla Come prima quella Con la che Assistenza Mi rinitiamo Scialla Ah no Ah eccoli porci Schifosi Dove stanno Dai Mannaggia Vabbè fortuna che ho Ipana E io Perfetto Anche se E non è perfetto Non cambia niente Al massimo fra tu puoi fare Un buco Sai dove Un buco sopra magari Ti puoi fare un buco Dalle porte principali E un buco sopra Non sul garage Scusa Non hanno barricato il garage Oh regà No Non è barricato un pezzo Che ha a carica eruzione Eh ma pulse C'è pulse C'è pulse C'è pulse Buone che sto fizzando Buone che sto fizzando Ha fatto un ferimento mi sa eh Giorgio Giorgio 8 a sparì Che le Ecco Si vabbè però No a Ma proprio due Si ma C'era manco la camera Non hanno Valkyrie Che lui sapeva Che io ero lì Lui lo sapeva Ma non lo so io, questa è vergenza. Occhio Capcom, Capcom che fa sponchi. Doc. Puttana, troia, andiamo di sopra. Eh sì, sono tutti di sopra. C'è Doc, c'è lo Jaeger sopra. Vabbè, no, eh, raga, non c'ho... Ma guarda, non c'ho po' se c'ho, ma... Speriamo che Luca faccia il miracolo. Salva, stai, parole sagge, bravo Salva, stai. Quindi tu devi iscriverti, ma per piacere. Ma infatti non capisce un cazzo con il montagno. Tio, in difesa farà anche le kill, però guardalo, guardalo. Ma che ti ami di fa? Però mi stai distraendo, eh. Oddio, c'è... C'è... Fra, guarda montagne, c'è il tuo cadavere bugato. Sì? Dov'è il mio cadavere? Ma non è bugato, io lo vedo. C'è il tuo cadavere che sta ballando. Io lo vedo fermo. Ah, io lo vedo ballare. Sono tutti sopra, dillo a Luca, sono tutti sopra. Ti sente, eh, ti sente. Eh, comunque sono tutti sopra. Grande, eh, vabbè, no. Ci vuole. E' il 60 vuote. Che cazzo fa questo? Ma almeno spararli. Cazzo. Amico mio, c'è quello nell'altra stanza, non puoi entrare così da dietro. Che cazzo fa? Ah, ho capito, voleva... Voleva tirarli fuori e poi lui entrare. Eh, sì, ma non sono mica così coglione, sono in due. Morto. 3, 2, 1. Io, ma... Per me... È questione di secondi, questi poi cercheranno di aggirarlo da dietro. Ma che cazzo fa? Era nell'angolino. Eh, vabbè, raga, facciamo libere. Sì, ma non si può, non si può perdere così queste partite. Eh, se non facevi la doppia con la Capcan, quel round era vinto, avevamo vinto. Vabbè, ma un po' ha sbagliato anche i montagni, dai, secondo me. No, lui ha fatto tutto perfettamente. Eh, almeno lui ha fatto 7. Guarda, facciamo una bella libera, full team reclute. Mi raccomando, lascia like. Ecco, cioè... Perché? Perché se n'è andato... Io? Eh, te ne sei andato? No, no, raga, no. Sì, sei uscito dalla squadra. Aspè, oh. Ti invito. No, ma non credo. Come non credi? Lo vedo io, eh. Non è che... Non credo. Bravo, Cirrus. No, ma non c'è la penalità, però, si abbandona. Ma il cazzo c'entra? La penalità abbandona non ce la devi avere. Abbiamo avviato una libera, non una classificata. Rientra nella squadra. Sì, sto rientrando. Sì, sto rientrando. Sì, stai rientrando. Sì, stai rientrando. Allora, non si avviene. Eh, non lo so, quello là è uscito. Strei? Ehi. Eh, screen in live, ok, però, entra anche nella squadra. Sì, ho capito, ma sto entrando. Stai entrando, non mi sembra. No, raga, no, non ci credo. Oddio. Ah, ok, invitatemi. Eh, eh, mo. Gio, invitalo. Aspè. Aspè, entro direttamente da voi. Raga, mi erano cresciati sempre, raga. Adesso o prima? Eh, mo, però, mo sto andando, speriamo. Sennò vi devo lasciare, raga. Se non va. Vabbè. No, eh, non mi trovo a dire rainbow. Vabbè. Non mi trovo a dire connessione infame. Raga, ma se non trovate voi da me? Eh, no, ormai siamo in libera. Siete in libera? Sì. Vabbè. Il commando è forte, non lo so Porca troia, porca troia Tra recluta Chi sono i dual party? Io Ciao Uca, dopo che è finita questo invitatemi Va bene Perché ora sta andando? Ok Grazie, io voglio la recluta col tuo uomo Siamo in libera, comunque Siamo 0-0, abbiamo appena iniziato Ciao Yook03 Lascia like E iscritti, ma mi sembra che si sia già iscritto Giusto, sei pronta a pusharli dentro la stand del videotipo come un cazzo? Eh, ma io ho lo scudo Eh, io ho l'arma di Thermite A caso Io volevo mettermi in pompa Guarda per la prossima volta No, porca puttana Mi hanno individuato Vedranno una recluta cattivissima Ma io entro subito nella zona Ma chi è che lanciare flashman gantoso a me? Ah, non lo so io Io ho la granata in patto, eh Io ho la granata in patto La granata frammentazione Sì, io ho quella cazzoletta E poi il cazzo lì, il cazzo Oh, cazzo Eh, amico mio, non vorrei niente Oh, ora siete soccorso Sì, io ho quella cazzoletta No, oh, cazzo Oddio Io ho fatto due kill C'è due kill La recluta, raga Luca, he's He's the best of the life Io ho fatto due kill C'è due kill la recluta, raga Ma questo è il secondo round, no, raga? Sì Mi cerca un po' Due kill con la recluta La recluta? Boom beach Dopo mi invitate, raga? Sì, dopo ti invitiamo Ah, non lo so io Vabbè la merda Minchia Il gioco sceglie bene Aia Oh, ma chi mi ha sparato? Chi mi ha sparato? Cazzo, ho sprecato quasi Ciao, Jacomod Lascia like Solo perché noi stiamo usando la recluta Maia, ma basta È Luca Prima Luca in attacco A me mi lancia i fumogeni E le flashback in faccia Mi pare il coglione, Luca A lesbico No, il C4 non lo voglio Oh, sì, è Luca Bastardo Luca Aiuto No, mi fa 25 di vita Ragazzi Jacomo Z Y Antiche Che S S S S S 25 di vita Siamo delle seghe, raga Che seghe Oddio Sì, se Luca non mi avesse fatto Bella, Jacopo 75 di vita, lo so Oddio Vai, farà Povera pipetta Ma no Vai, farà Portiamo su di te Perché l'arma del bandit Oddio Che chi è lento Era superman quello No, non spaccare così T'ha visto Ecco appunto Ah ma era fuori della destra Sì E allora perché era contesa Eh perché l'altro era dentro Cazzo, ho fatto 5 uccisioni Porca puttana Perché non le vado No, scherzo Una volta vado Con Col pompo Anzi Con cecchino Quello di Twitch Ah 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 Povera pipetta Che cazzo volete Cioè Quello della recluta Sto facendo i casini Però da solo Non ci riesco a far full team Farò spariamo Nei piedi di Ah No dai Lo fai tu Va bene Luca Fallo tu Cosa fai? Non va nulla dai No Spero veramente Il cazzo vuole fare Secondo me Prima ha tolto Praticamente Ha sparato a tutti Ai piedi No Mi lanciavo le flashbang Sì Ma in attacco In difesa A me prima Ma Cioè Ha tolto 75 di vita E intanto Sparava anche All'altro Lascia le flashbang Ahia Basta Oh Non a me Cazzo Cazzo Sgatto No Dai cazzo Che c'è il buco Nel culo No E vabbè Dai cazzo Luca Se non mi lanciavi Fumogeli in faccia Quello l'avevo ucciso Questo è Ecco E' vero che è dovuto guarda Mi ha sparato Pucca quattro volte per ammazzarlo La faccia del cecchino Ma l'ultimo round No eh Raga Questo E' certo Cambiamo arma Per l'ultimo round User No beh Certo La regla sottointesa Vabbè Certo Raga Ma perché Uno sta prendendo Cavero Eh ma perché Lucas Quello lì Non è Del nostro team Noi tre Lo abbiamo preso Ora lo ammazzano No chi è che ammazzano Scusa io un po' Non lo so Ma scusa ma tu non dici Luca del team Oddio No c'è uno Luca Si chiama Nel gioco Si chiama The best League G901 Ma invece c'è un altro Nella squadra Che si chiama Lucas 555 Jolly Non sparare a me Guarda quanta vita ho 46 di vita Ora lo ammazzo Luca Hashtag Luca Ribella Eh vabbè Senza affesa Luca La vuoi? La vuoi? La vuoi eh? Monello Tieni Bella 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 Elix Oh porca muttana Electric 06 Mi riprendono la C4 Te non sei degno Guarda ma che coglioni di stronzo Ma io non ho fatto niente Coda? Bella Electric 06 Povero Bolt Vabbè Io non ho fatto niente E il tizio mi spara a caso Ma io non so Cosa? Perché? Perché? No qua non c'è Che male L'avrei portato giù Aspetta forse c'è in bagno Tu sei un pezzo Tu sei un pezzo Tu sei un pezzo Ehi Guarda lui sopra il tetto Diciamo Basso Il tizio mi spara il tetto e dove l'ultimo non so ma tu rimani di controllare la zona si comunque secondo me fra e dire però potrebbe fare il giro e entrare per le finestre solo fa uno sciocchino eccolo qua dov'è da dove miro io sto sputtando allora no entra dalla finestra della zona dai raga speriamo vincere questo sim invitata tu solo sei si comunque fra è entrata dalla finestra della zona fra vai a fare spunti best league se n'è andato su che cazzo sei uccisioni tutte con la recluta raga tutte con la recluta sei uccisioni tutte con la recluta tutti gli spettatori che ci sono in questo momento devono lasciare Luca e che cazzo sto facendo devono lasciare Luca perchè ho letto il numero della live devono lasciare like non Luca devono lasciare like oltre a Luca donate un euro a Luca si gioca per... ah no scherzi porca puttana scherzi eh scherzi tu Luca mi ha scritto tvb lo ha dimostrato potrebbe voler dire ti voglio bruciare quindi io ho un po' paura adesso Luca si riunisce mi ha dato errore connessione si si fa niente ora metti il link del gruppo telegram si si non mi ricordo qual è mettilo tu Luca io non mi ricordo il nome lo metti tu è tuo meno male no l'ha creato lui io vabbè vai ben invitati comunque non so come non so come si fa ma scrivelo qua nei commenti nella chat scrivelo nella chat Luca's group Luca's group no il gruppo di telegramma di Luca oh se mi dai errore connessione mi incazzo si incazzo aglià attenzione che se si incazza lui donate un paio d'euro per una buona connessione per il povero strego eh no ma sta attento adesso eh vai eh vai così anzi adesso ritiratemi fanculo finalmente è andata non ho l'audio non ho l'audio caso ma mai non mi sento quel di live si povero snake non può sentire comunque Luca scrivi nella chat qua il scrivelo tu il link di telegram poi nella prossima live lo metto proprio nel titolo e comunque Luca unisci la partita che almeno facciamo un'altra libera mi manca un culo per arrivare al 113 come faccio a scriverlo bro che devo fare ho finito la benzina hai finito la benzina eh e quindi vabbè Luca adesso iscriviti al canale hai che cazzo sto leggendo e Luca adesso volevo dire unisciti nella squadra che non facciamo una libera poi quello ci pensiamo dopo sei bravo Luca scrivi te però entra nella partita no dai dove fare la partita no 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 siamo a 300 commenti questa live è più tranquilla di quella di del sera quella di del sera a quest'ora era a 1000 cibo dai raga devo rinvitarlo non so bravo Luca hai ragione Tidus comunque il link che ha mandato adesso Luca Manu è il link del nostro gruppo telegram chi vuole può io sto già nel coso nel coso si lo so invitato a cazzo se volete tenervi aggiornati sul canale le live future queste cose chi vuole essere sponsorizzato queste cose così c'è il gruppo telegram per chi di voi che ha telegram c'è di scuro unisciti Luca per favore a quante ore siamo di live? eh da un'ora 52 anzi 48 da un'ora e vento con un'ora e vento con un'ora e vento appena un'ora e mezza vabbè questa live durerà meno della scorsa mi spiace ciao Giuseppe Sgarlata perché Luca ha scritto domani mi tocca scopare al mare perché? beh ci sta c'è occhio Luca che atti e sceni in luogo pubblico è un reato quindi non farti beccare le domeniche d'agosto quanto quanta nere che cadrà è la canzone di Gigi Alessio e quell'altro voglio che adoro è un'altra canzone nella gabbina hai capito? lo fa nella gabbina lì non lo vede nessuno comunque Luca ti rientri in questa partita o no? sennò l'avvio eh se tu vuoi staccazzeggiare nella chat mi va benissimo però dillo nella gabbina hai capito? io non voglio bestemmiare eh non bestemmiare chi te l'ha detto che devi bestemmiare basta che mi dici se vuoi fare una partita o no di solo questo non ti sto obbligando a bestemmiare io c'è non lo so io oh vibra tutto ragazzi ragazzi l'altro avvio avvio ci ha unito ho voluto tanto dai basta divertiamo il giro libera oh ben fatto Luca dai chi ti... eh quelli di voi che hanno telegram possono entrare nel nostro gruppo dove inviteremo aggiornati sul canale sulle info del canale sulle live future sui video futuri sulle sponsorizzazioni e tutte le cose varie di cui è responsabile il canale se non avete telegram dovete scaricarlo al momento proprio adesso subito andate su play store tanto avete wifi scaricate telegram bravo Cirrus bravo eh se ne è andato Luca senti Luca ma puttana perchè cazzo hai abbandonato? Dio Dio buono Dio santo Dio cavoletto non mi... non mi vanno i serva senti eh io starto dai io ci fui ciao paul and lollo lascia like alla live iscriviti al canale se non ti sei ancora iscritto ma cosa da dove è accettato? dipendendo ti senti con le calcette è cambiato dio hahhh ahhhh Tutte recluta? Eh certo Eh mesetta un po' No no stai tranquilli Stai recluta Ok Tutte recluta è un glaz No ci abbiamo il bana e il glaz Ah scusa Tutte recluta è un glaz No ci abbiamo il bana e il glaz Abbandonato il party Vabbè Contento lui Contenti noi Come diceva sempre il mio zio Ah dato che abbiamo trovato l'obiettivo il mio drone non ha più senso di andare in giro Mi hanno distrutto il drone Oh no Ok No 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 Vabbè Direi là 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 è Nooo! Oddio raga non pensavo che era grazie Master Captain! Nooo! Oddio che lag! Tu tu tu! Tu tu tu! Oddio! Sì va bene ma... Perfetto! C'è Smoke che arriverà in giro eh! Ciao Riccudo Tube! Lascia Like a Live! Iscriviti al canale! E poi ricambia tutti quel cazzo! Giù sta rilargando un po'! Ok Cirrus però entra nel nostro anche no? Non sei entrato! Non sei entrato! Madame! Sì ma il lag! Io l'ho attivato! Guarda! Ahahahah! Ahahahah! Devi scrivere! No mi prego! Chi è che? Anche voi coglioni! Ti scrivo il nome! Come? Ma il bello che io ho messo la carica in diluzione! Mi sono allontanato! Ho premuto! Il lag mi ha fatto ritornare di sopra e ha fatto esplodere la carica! Oh Gesù! Ah! Che figlio! Allora! Che figlia! Che figlia! Chi si vede si sa proprio in trocare questi! Sì Cirrusto adesso entriamo anche nel tuo! Ora finiamo la partita! Ma chi è che pia... Perché ha piazzato? Ma che ne so! Poi io mi sono suicidato! Guarda quell'esplto! l'epoca oltre 4 l'avvento E sono tutti qua all'ingresso principale Arrivo Arrivo Perfetto È arrivato Prego mi aiutami Prego mi aiutami Una morita in due Sapevo Lo dovevo L'ho sempre saputo Porco carne Madonna Questo è anche un genio Cazzo What? Bello Dai ora raga abbassa le crise Dai Va bene Va bene Giù Andiamo pesantemente di pompa Va bene Io sono sempre andato di pompa Io no Anzi prendo il fuccele di merda di IQ No No dai Ciao Baffo crew Lascia like al video Iscriviti al canale E poi Ti ricambio Guarda dai Vai al canale Tu hai 235 iscritti Ora ne hai 236 Tac Fatto baffo Iscriviti al canale Lascia like Perfetto Perfetto Si tirano tra loro L'ha ucciso Ma il bello che stava sparando Io l'ho visto in diretta Stava sparando al mio drone E' arrivato quello che l'ha ammazzato Ci vuole una musica triste Un sad moment You can't say Oh bravo baffo Hai fatto bene Ora siamo a 158 iscritti Il traguardo per ora è 200 Fasponchi Fasponchi Vado vado Andiamo al cattivella Ma che cazzo è che mi sparta Si vabbè ma c'è quel coglione Si vabbè grazie a problemi mentali E' giaca la giaca Guarda che coglione Vota l'espulsione di già E lo voto io Non si può Ma come? Cioè mi ha ucciso? Ha ucciso anche me? Segnala comportamento sospetto Segnala comportamento sospetto E' il glaz Ah no Segnala comportamento sospetto Ma cosa fa? Ha 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 Lo stimo con tutto il cuore Quanto sta la live? Ugo Sta proprio a Un'ora e quaranta Centoquaranta Guarda se ne hanno dovuto Direi Facciamo un'ultima libera Poi stacchiamo Poi puoi staccate Io sì Direi proprio di sì Ultima libera Continua a giocare come squadra Trovo un'altra partita Io sono Cree Ciao io sono Cree Grazie al cazzo Grazie al cazzo cosa? Beh logico che io sono Cree Cioè ho il quaranta per cento E non ho ancora trovato un pacchetto Cioè io ho il Ho il tredici per cento E non l'ho ancora trovato Anzi scusa Quarantuno per cento Cioè praticamente occupa Quasi metà cerchio Io però Ovviamente La lancetta lì Non riesce ad andare Oh raga Eh Vi saluto io dai Saluta saluta Allungiamola così Con pacchetto Beh Raga Grazie tutto raga Già divertita Ciao raga Ciao 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 Poi ci sentiamo pittati sul canale Ma ne chiedo vado Telegram Ah ok Ciao raga Bella Ciao 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 No Sabataggio perfetto Posso andarmi nei costine Allora 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 Abbandonato uno Perfetto Dai strego Cioè ma È genius Sì prima entra nella partita Poi abbandona Esatto Ma è che dice No no Non posso Devo andare Ma ci sta Va bene Va bene Luca Va bene Sul gruppo di telegram del canale Lui e Luca parliamo di cose molto interessanti Ieri sera stiamo stati fin tipo all'una e mezza Da mezzanotte all'una e mezza Da parlare su telegram di cose molto Molto Immagino Sì Immagini Immagino di cosa Perché cosa pensi? Ah boh non lo so io Eh bravo Luca Cose che servono Ha ragione Sono cose che servono Cioè Vuoi mettere Immagino Ma guarda C'è Valchile Che piazza le sue belle videocamere Come va Valchile È tutto bene? Cioè La vedo anch'io Il mio drone è morto Oh porco duro Ma dove stanno raga? Boh Boh Ma l'abbiamo trovato quant'è il tuo Ah no non sappiamo dove Bello Ho il pompa di Di Delta Chunk e del Ah quel pompa lì? Sì Boh È tipo semi automatico quello Sì ci sta un forte Vuoi vederla da vicino No no Non sono giù Sono giù No E dove stanno Non sono neanche Di qua Ti ho visto in diretta Ma no Ah mi sa che sei in sala da pranzo Di forse No no scherzo È vero Luca Stessa c'è il dito preso in causa Ieri sera Durante la nostra discussione Vai Gio Ora di Gio Non c'è più What the fuck Non l'hai visto Non l'hai visto Boh what the fuck La traversata La traversata Il sedio della fede Oh porca puttana Porco Porco Bravo Gio Perfetto Gli hai ridotto la visuale Ora non possono più fare niente Vado Contendo la zona Ah no Hai sbagliato la zona Mi spiace Oh Zona sbagliata Ok Faccio un giro lungo Tra butta no Perfavore No io non faccio nulla Angeli Dai vogliamo no Ma dove cazzo Dai fatti 20 punti Porca puttana Ma alla fine Gli hai trovato Gio Dai ero dentro E' vero che votato Per Sperler Intanto però Ho fatto quello E' quello che ha fatto E' vabbè Un filmento fatto Cioè No Ho ucciso Quello là E l'altro Vabbè Quello altro L'ha speso Però Senza di me Quello scoprivamo Che era un hacker Quello che attraversa Le granate E' malvelo Che non ha neanche Subito danno Dalla granata Eh no Lui aveva il caschetto Comunque Luca Ha detto In chat Che lui E' il numero uno In religione Che cazzo fa Ma che cazzo Mi sa Che era quello Che ti ha portato L'espulsione Non so Perché Penso così Che coglioni Ah L'ostaggio Sì L'ha mandato in ferimento Però ammazza Sì Tu credi Chi era Ma chi era Ammazza direttamente Era Castle O ammazza direttamente Lo stagio Era Castle Era Castle Ma Castle Sarà incogionito Vuole uccidere No Guarda Non sono io Non sono io Testa di cazzo Cazzo Rianimani Guarda Stai andando a terra Tutti Eh vabbè Twitch mi uccide Ma puttana Guarda Jaeger Chissà Twitch ce l'ha uccida Sì Ma quello lì Si è girato Ha pensato che fossi io Che l'avevo fatto male Sì sì Ho visto la tua visuale Ma che puttana Puttana Fusione di cazzo Ha senato Perfetto Che coglione Che stelicazzo Anche bandit Però Cioè Vede che è l'altro Che ammazza tutti Lui si gira Ammazza me Ma è bello Che tu non avevi Le gravate impatti No Eh Stanno solo fotendo le stacce Ma ammazza Perché l'ha ucciso Che stacce Che coglione Cioè Quella lì ha dietro le sfide Cos'è che fa Scusa Gli sparava alle gambe Pensate Che mia madre Era piccola Sì Sei proprio un comico Cazzo Guarda Prendo la recluta Con L'arma di IQ Oh Arzu Arzu Murat Prende anche lui La recluta Chi sta Un foto Insomma 18 like Dovremmo arrivare a 20 Non so se Mannaggia Mannaggia Mancano due like Dai raga Due like Ok aspetta che vado a dire la tua like Eh direi Cazzo Hai messo dislike per caso? No 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 dai Perché devi fare così Dai ti ho messo like Eh cazzo dai Oh porca puttana Che è che ha lanciato Pledgine? Io no Non ho Vedi Joe Tranquilla frarevo io Avrò sparato un casino addosso a tutti Buttarli sotto Joe Fallo adesso No no Aspetta eh Si può ancora fare Stanno tre contro tre Cazzo mi stavo per buttare di sotto Il mio cadavere è caduto di sotto Eh il tuo cadavere Joe comunque sai cosa? Ho scoperto perché tuo cugino In Until Dawn Eh gli ha morto Chris Perché? Praticamente Sai prima Che lo psicopatico Faceva quei test Su Su Come si chiamava La tipo Chris E Ashley no? Eh La roba della pistola Che deve scegliere Se uccidere se O ammazzare Ashley Se fai Di uccidere se stesso Ashley un po' Diciamo si innamora Ma se invece Fai di ammazzare Ashley Lei si offende E inizialmente Non lo capisci Ma poi Quando lei deve aprire la porta Praticamente Eh C'è Chris che gli fa Apri la porta Apri la porta Lei sta lì Lo guarda E intanto Va a vedere il flashback Il flashback Che fa vedere che Lei voleva sparare Davvero? Si Quindi non gli apre E il Wendigo Lo prende Gli stacca la testa E il punto è che lei Dopo tutto questo Fa praticamente Dopo che c'è Chris Morto per terra Lei fa una specie di sorrisino Ecco perché allora Non era mio cugino Perché mio cugino Ha fatto come Cioè ammazzare se stesso Invece è l'amico di mio cugino Grande Ha ucciso l'ostaggio L'amico di mio cugino No Non l'ha O il due gamer O il due gamer Ottio è A insultare Luca Ha salvato se stesso Quindi Probabilmente è così che muore Beh comunque Era per questo Ma io ci mi arrivarrei Merda Figa Si ma Ho guardato sto video Vedi presente C'è Chris Apri la porta Apri la porta Ah il due gamer Ha due account Ah bravo Luca Bravo Apri la porta Questa qua sta lì E lo guarda Lo fissa proprio Il punto è che poi Arriva Mike Fa cazzo Anche noi però Abbiamo ucciso un po' Ashley in maniera No era Ashley? Si Ah noi Ashley è morta E' vero Però a Chris Vi ha già aperto la porta A noi si Sono curioso Jessica Si vabbè ma Adesso Non dico parla Comunque sai che Jessica O moriva lì O moriva più avanti Per la stessa cosa Ehi Eh giù Stavo dicendo Che Jessica Muore perché Muore per la stessa O moriva come Quando è morta Perché noi abbiamo sbagliato O Se non sbagliavamo Moriva per la stessa Causa più avanti Cioè moriva Sempre perché Si staccava la La bocca Oh Giojo Dove sono? Qui? Dove sei tu? Ho capito Ma che c***o Sì ma sta zitto Ma ti resta No puttana Ugo sono Questo è l'account Dove carico video E una volta Con un mio amico Eh lascia like Con quegli account Cioè lascia like Con tutti gli account Stai su Tanto giù è finita Stai tranquillo Muore in tutte e due Questi due Io non ho mai giocato Caveira col milno Hacog sul Pumpa Oh assist Due pari Ultimo round Sei 21 like Praticamente E quanti iscritti 160 Bella raga Bella raga 160 Dai Gio Dai Gio l'ultimo round Poi No Vabbè Ciao Ciao ci si sente domani Buona notte E se ne è andato Il nostro caro Assassin Noi invece faremo L'ultimo round E poi la live Terminerà anche per noi Spero che vi sia piaciuta Anche stasera La live Beh dato i 21 like Spero di sì Credo di sì Confirmed The host has been located Insertion in 10 seconds 5 seconds before insertion Adesso andiamo a cazzo duro Che c'è Luca? Dimmi Chi sono i 4 spettatori commentanti? Commentate Esatto Commentate Lasciate mi piace Dai che magari riusciamo ad arrivare a 25 Che era la nostra Era la somma Che volevamo arrivare prima 20 va bene Per carità No puttana Non pensavo Che fossero tutti lì La trappola Che grande Brava Ibana Oh 22 like Mi fa molto piacere E la partita Almeno la libera Raga l'abbiamo vinta Almeno la libera Vittoria Corrimonta Miglior giocatore Miglior giocatore Ugo Piro Con la recluta È solo recluta Usato in queste libere Tre libere Tutte solo recluta Perfetto Livello 113 Vediamo se ci dà il pacchetto alfa Se ci dà il pacchetto alfa Proprio Raleigh Finisce Per il meglio Domani scopi No niente pacchetto alfa Fa niente dai Va benissimo così Va bene dai raga Anche per stasera La live può finire qua La prossima live Non so se farla domani sera O dopo domani sera Beh Beh Proprio a questo serve Il gruppo telegram Che abbiamo Per metterci d'accordo Quando farla Quando va bene Sia per me Sia per voi Quindi Niente Per questa sera La live può finire qui Spero vi sia piaciuta E sia stato il vostro Di gradimento Ringrazio Quelli che hanno Già partecipato E quelli che sono stati Acchiti tutto il tempo A Commentarla E Lasciate like Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Nel prossimo video Nella prossima live Ciao a tutti ragazzi E buonanotte